Un vitto calendario di appuntamenti, quello previsto nel cartellone della manifestazione Settembre Insieme Estate 2013, promosso dall'amministrazione comunale e dalla Proloco, che hanno preso il via lo scorso primo settembre con il concerto live del DJ Set al Monte San Giuliano e che si concluderà il prossimo 4 ottobre al Teatro Regina Margherita con la rappresentazione Il Berretto II, portata in scena dall'Accademia dei Guitti. Un ricco programma che è stato definito e che ha visto impegnata negli ultimi giorni la quinta commissione consigliare permanente alla cultura e allo sport, presieduta da Gianluca Bruzzaniti e composta da Giorgio Middione, vicepresidente Ritalba Mazzei, Lario Falzone, Leila Montagnino, Vito Margherita e Oscar Aiello. C'è stata una collaborazione fattiva con l'amministrazione comunale e la quinta commissione che si occupa appunto come delega lo spettacolo e quest'anno siamo riusciti a lavorare a un cartellone di eventi che effettivamente è piaciuto molto in città, anche se comunque come sempre qualche critica da destra o sinistra comunque c'è anche arrivata. Però noi andiamo avanti e ieri sera si è svolta la seconda serata del Nista Live Festival che è un festival a cui partecipano tantissime band da tutta la Sicilia e c'è stato un notevole pubblico e di questo siamo molto soddisfatti. Questa sera ci sarà la finale quindi invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi. Tante altre iniziative sono state avviate, infatti ci sono diverse mostre in corso per tutto il mese di settembre diverse serate canore dalla semplice chitarra al gruppo rock presso la biblioteca Scarabelli quindi presso il Chiostro quindi anche il contesto è veramente veramente bello anche al Palazzo Moncata ci sono diverse iniziative che sono state avviate. Nei quartieri ci sono state diverse iniziative avviate nei quartieri con Piero Lamentola che ha fatto ballare con il suo Ballare Estate, ha fatto ballare tutti i quartieri della nostra città o gran parte comunque dei quartieri della nostra città. Comunque diciamo che con quel po' che abbiamo avuto siamo riusciti a organizzare un'estate, un'estate che diciamo quantomeno un settembre che può essere comunque un qualcosa di carino.